Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale e benvenuti anche all'ultimo video prima della pausa estiva perché anche quest'anno ho deciso di prendermi tutto agosto off sia dal canale di youtube che dal blog quindi non ci saranno nuovi post o nuovi video principalmente perché arrivo alle ferie stremata e ho proprio bisogno di staccare da tutto detto ciò doveste casualmente così sentire la mia mancanza vi invito a seguirmi su instagram dove comunque pubblico stories praticamente tutti i giorni e quindi possiamo comunque rimanere in contatto interagire e vi invito appunto a seguirmi trovate il link al mio profilo di instagram nella info box qui sotto il video cliccando su mostra altro fateci un salto ogni tanto scrivetemi e restiamo in contatto let's keep in touch bene considerato che la settimana scorsa ho pubblicato un video all estivo nel video di oggi ho pensato di concentrarmi principalmente su altre categorie che non siano quella degli abiti e quindi cura della pelle capelli accessori e poi sì ci saranno anche degli abiti ma molto pochi spoiler alert io ve lo dico fin da subito vediamo quanto riesco a far durare questo video che sulla carta dovrebbe teoricamente essere un po più sintetico perché ormai lo sapete non riesco mai a contenere il fiume di parole che mi escono dalla bocca quando inizio a parlare delle cose che ho amato vediamo come va partiamo perciò con la prima categoria che è la più cicciotta di tutte quella della cura della pelle peraltro se sentite dei rumori molesti in sottofondo è perché anche questa volta proprio come la settimana scorsa ho le finestre aperte perché fa un caldo porco se tengo pure le finestre chiuse qui non ne veniamo a capo quindi iniziamo con la prima categoria che è quella della cura della pelle prendersi cura della pelle è importante tutto l'anno ancora di più in estate quando tendenzialmente stiamo all'aperto più spesso sotto i raggi del sole la caldazza ci fa sudare come dei vitelli da qui l'eccesso di sebo che porta poi anche a un eccessiva produzione di cellule morte voi direte e vamola che informazioni intelligenti che ci dai stavolta e infatti non sono farina del mio sacco ci tengo a dirlo da qualche mese sto infatti seguendo su instagram l'estetista cinica sono arrivata tardi ma meglio tardi che mai come si dice e la cristina mi dà un sacco di consigli molto molto interessanti alcuni dei quali ho seguito e ho notato anche dei risultati per esempio la cinica consiglia in estate di diluire la crema idratante o con il siero per renderla un po' più fluida e quindi farla assorbire più in fretta di tenerla in frigo e questo lo consiglio a tutti perché non è che deve essere tenuta in frigo la crema perché scade prima ma perché quando la applicate è fresca la bellezza oppure di diluire la crema con la luce liquida che chiaramente è un prodotto di Veralab ovvero l'azienda dell'estetista cinica fama capisse ora lo dico subito caso mai mi fosse venuta mezza idea mentre passo uno scooter cioè nessuno mi paga per promuovere la cinica ma chi me caga a me ormai questo si è capito le ho comprato questi prodotti che mi sto per consigliare con i miei soldi e sono opinioni mie dicevo un altro modo è diluire la crema idratante con la luce liquida che è un po' mi pare di capire uno dei prodotti di punta della cinica e che cos'è? what is it? la luce liquida? una lozione illuminante anti impurità che si applica normalmente dopo aver deterso il viso facendone scendere qualche goccia su un batuffolo di colone di cotone e poi lo si appunto picchietta sul viso e va a rimuovere le impurità e a tirar fuori un po' di luce da questa pelle che in estate tende ad essermi un po' più smorta del solito so che non tutti sono concordi nel amare questo prodotto immagino dipenda molto da che tipo di pelle avete a me invece è piaciuto tantissimo si è mischiato alla crema idratante ma e soprattutto mi viene da dire da solo ha un'ordi cronaca questa è la versione mini perché essendo il mio primo acquisto non me la sono sentita di investire direttamente nella full size però l'ho utilizzata si può utilizzare una o due volte al giorno io di avere la verità non la uso proprio tutti i giorni ma la uso 3-4 volte la settimana ce n'è ancora un bel po' perché non ne serve tantissima ed è un ottimo prodotto peraltro visto che vi stavo dando quell'informazione di diluire le creme mi raccomando non diluite le creme con la protezione solare perché se no mi andate a diluire anche la protezione solare sempre citazione della cinica perché io di mio sono mai una cipa e visto che stavo a parlare del vera lab ovvero dei prodotti della cinica un altro chicchettino qui per voi fresh legs che ho preso principalmente perché non mi era mai successo ma quest'anno le gambe hanno iniziato a gonfiarmi tipo zamponi tra l'altro non sapevo neanche perché gonfino le gambe in estate voi magari lo sapevate io no me l'ha spiegato sempre la carissima cristina la cinica e vado a farvi un riassunto breve e veloce le gambe gonfiano perché fondamentalmente le arterie che sono le vie principali che portano il sangue all'estremità pompano il sangue quindi lo fanno arrivare gambe piedi insomma tutto non deve andare do deve andare mentre il sangue poi mi ritorna stavolta è passato un trattore mi ritorna attraverso le vene che a differenza delle arterie non pompano una cipa son proprio culo di marmo stan ferme lì il sangue ritorna principalmente grazie al movimento muscolare in estate se stiamo molto seduti o molto in piedi e il caldo in più tende ad allargare le vene tutto ciò mi rende il ritorno venoso molto più complicato ed è per questo che gonfiano le gambe bene ora quindi servono dei prodotti che vanno a rinfrescare e anche ad aiutare un po il ritorno venoso uno di questi è proprio il fresh legs di vera lab che è diciamo da usare così alla necessità alla bisogna io per esempio questo lo tengo in borsa anche in ufficio ogni tanto zazazazà e alla menta credo mentolo comunque si spruzza generosamente sulle gambe ogni volta che le sentite che ne sentite la necessità le rinfresca e poi questo senso di freschezza dura anche a lungo quindi non termina appena dopo l'applicazione molto molto figo vi dico così a nord di vero del vero che ho preso anche i sali di epson che era l'altra cosa che consigliava la cinica non li ho ancora provati perché poi ho seguito anche altri consigli per esempio alza sto culo dalla sedia un po più spesso o viceversa se stai sempre in piedi ogni tanto appoggia sto culo sulla sedia e alla sera metti le gambe in alto addirittura schiena per terra gambe appoggiate al muro e questo movimento con le caviglie aiuta tantissimo quindi effetto zampone un po meno evidente di prima però io fresh legs ve lo consiglio perché molto molto figo altri consigli della cinica voi direte ma se volevo sentire i consigli della cinica mi seguivo la cinica e vabbè io però li ho seguiti sti consigli hanno funzionato e quindi vi do anche la mia prospettiva sulla roba d'estate per il fatto appunto che studiamo e che viene prodotto un eccesso di sebo che poi comporta come ho detto prima anche una eccessiva produzione di cellule morte non è male esfoliare un po più spesso ma esfoliare in modo molto 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 delicato perché comunque soprattutto se prendete il sole la pelle mi è già un po irritata di suo se andiamo a fare uno scrub troppo aggressivo facciamo dei danni che è proprio meglio lasciar perdere invece un'esfoliazione molto leggera e consigliata una o due volte alla settimana ma anche solo una io ho scoperto un nuovo prodotto della fresh eccolo che come sapete è uno dei miei brand di cura della pelle preferiti in assoluto che purtroppo in Italia non è distribuita ma innaggia loro comunque è in questo caso un prodotto che sto per mostrarvi anzi che è già qui poche idee molto confuse c'è un caldo che mollatemi sotto ste luci sugar strawberry exfoliating face wash quindi non uno scrub vero e proprio non un esfoliante vero e proprio ma un detergente con azione esfoliante a base di zucchero e di fragole la prima figata che profuma di fragole limone e zucchero ha una texture molto molto fine perché a tutti gli effetti non è uno scrub ma è un detergente con dei leggeri piccolissimi granuli di zucchero che quindi mi fanno anche questa leggerissima leggerissima azione esfoliante io lo uso uno due volte la settimana la mattina appunto per lavare la faccia in realtà si usa in questo modo si sciacqua la faccia con l'acqua mentre la pelle è ancora umida si mette il prodotto lo si massaggia molto delicatamente e poi lo si risciacqua e la pelle risulta detersa e anche esfoliata mollalo figata assoluta e poi in concomitanza dell'acquisto del Sugar Strawberry Esfoliating Face Washing ho visto anche un altro prodotto che è una novità della Fresh Rose Deep Hydration Sleeping Mask una maschera alla rosa che offre un'idratazione profonda gliela posso fare forse una maschera di quelle che non vanno risciacquate che si tengono su tutta la notte fondamentalmente una maschera che assomiglia molto a una crema notte con la differenza che è in due step vediamo quanto ci metto a aprire la confezione di solito sei giorni è andata bene come vedete all'interno c'è da una parte il gel che è il primo step molto rinfrescante e molto leggero lo si stende e lo si picchietta lo si lascia assorbire per quei quattro secondi necessari e poi si stende la seconda parte il secondo step che è la maschera vera e propria entrambi profumano di rosa che come ormai saprete è una roba che mi fa impazzire e la pelle risulta rimpolpata e profondamente idratata si tiene su tutta la notte vi dico la verità in queste nottate di caldazza assoluta durante le quali sembra di svegliarsi la mattina usciti dalla doccia a volte mi è capitato di avere la pelle leggermente più unta però poi basta appunto detergerla e tutto a posto tutto torna nella normalità ma la pelle risulta molto idratata dall'interno e molto molto morbida e tonica quindi è un prodotto che mi sento di consigliare e ora visto che stiamo a parlare già da dieci minuti cerchiamo di stringere un po' veniamo al grande classico dell'estate per quel che riguarda la cura della pelle creme solari quest'anno mi sono buttata sulla Bioderma che è un marchio che mi piace comunque molto lo stesso per capirci dell'acqua micellare che uso tutti i giorni protezione 50 perché è una pelle delicatissima se sto mezzo secondo sotto il sole senza protezione solare divento una ragosta quindi io vado sempre per questi SPF alti 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 quelli da neonato per capirci questa è la versione in spray preferisco tendenzialmente le creme solari per il corpo in spray perché le trovo più comode da utilizzare questa come vedete è bianca ma il gioco è fatto è idro repellente che significa ovviamente che se fate il bagno poi non dovete riapplicarla subito perché tiene all'acqua protezione solare 50 questo si è già detto per pelli sensibili senza profumo senza parabeni tutto quello che si può desiderare da una crema solare molto molto consigliata a seguire invece per il viso ho preso una chicchetta che è la crema solare viso colorata che quindi mi fa anche un po' quell'effetto troverò la parola di uniformare l'incarnato ce l'ho fatta quel neurone che gira così col caldo poi c'è il neurone eh mi uniforma un po' l'incarnato è disponibile tipo solo in tre colorazioni niente di che a onore del vero però non è che abbia proprio quel colore da fondotinta super evidente va abbastanza a viene assorbita dalla pelle e va soltanto leggermente a uniformare il tutto non è male considerato però che io non mi trucco mai quando vado in spiaggia e spesso in vacanza non mi trucco proprio tutto il giorno questo mi dà un po' quella sensazione di viso leggermente meno con discromie iperapigmentazione e compagnia bella vi faccio sentire perché molto molto liquido l'unica cosa che non mi piace è che non c'è la pompettina proprio il classico e quindi è un po' risulta sempre un po' messi come dicono in inglese un po' ingraggioso ma a parte questo consigliatissimo e con questo si conclude la sezione della cura della pelle Deo Grazia passiamo alla prossima sezione che è quella dei trucchi ho solo due prodotti per la categoria del trucco da consigliarvi il primo è un fondotinta perché in estate prediligo fondotinta molto molto leggeri un po' per il fatto che sudo come un vitello un po' perché la mia pelle in estate è un pelino più colorita un pelino meno la morte embriaca e quindi preferisco qualcosa con una texture molto leggera e allora ho deciso di provare un nuovo fondotinta che in realtà è in commercio da cent'anni il Even Better della Clinique che peraltro mi ha anche un SPF 15 che non guasta mai mi piace appunto perché ha una texture molto molto leggera non è eccessivamente coprente ha un finish luminoso non mi piace che non abbia la sua pompettina che è una roba che invece di solito prediligo ma comunque non è poi particolarmente antipatico da applicare si stende facilmente si uniforma facilmente dura abbastanza lungo e appunto non copre troppo è abbastanza diciamo una coprenza medio e bassa e l'SPF 15 è un plus non da poco per fissarlo soprattutto in estate adoro questa cipria della becca che è la Hydra Mist ve ne avevo già parlato era già stata tra i miei preferiti del mese non ricordo quando mesi fa perché mi piace in estate perché come ce vince dal nome Hydra ha una texture stranissima quando la si applica col pennello sembra quasi liquida e va a fissarsi istantaneamente a fondersi col fondotinta scusate il gioco di parole lo fissa senza essere stopposa ed è anche molto fresca e quindi molto molto piacevole da utilizzare in estate e quindi ho pensato fosse una buona occasione per riproporvela casomai non l'aveste mai provata peraltro non l'ho ancora detto lo faccio ora meglio tardi che mai se qualcuno dei prodotti dei quali vi ho parlato o del quale vi parlerò nel corso di questo video dovesse interessarvi voleste saperne di più troverete tutti i link sul mio blog e il link al mio post dedicato come sempre è nella info box qui sotto oppure cliccando sulla i qui sopra la mia testa e questo conclude la categoria del trucco adesso passiamo alla categoria dei capelli per la categoria dei capelli ho un prodotto da consigliarvi e anche in questo caso è già stato tra i miei preferiti del mese ma lo trovo molto valido soprattutto in estate l'Untangled della Kevin Murphy un brand di prodotti per capelli australiano se non sbaglio molto molto valido di alta qualità l'Untangled è un balsamo di quelli che si tengono su quindi che non va risciacquato che mi districa il capello ma al tempo stesso lo revitalizza e ha anche un'azione termoprotettiva quindi se dopo andate ad utilizzare la riccia capelli per capirci questo già mi fa un po' da termoprotettivo ma soprattutto li districa che è un piacere e quindi anche in spiaggia per esempio dopo aver fatto il bagno me lo porto ne spruzzo un po' passo la spazzola come nuovi li rende anche lucidi li revitalizza e quindi ancora di più in spiaggia quando il sale e il sole vanno a renderli i nostri capelli proprio così tipo gatto arruffato un prodotto di questo genere non guasta io ve lo consiglio non è facilissimo da trovare ma cercherò di mettervi dei link sul mio blog come al solito non so se avete notato sono molto più stringata perché dopo sta svalangrata di informazioni iniziali per la cura della pelle sono già sudata come potete immaginare una caldazza che mollami inizia a essere intorno a mezzogiorno ci saranno 86 gradi cerchiamo di stringere di arrivare vivi possibilmente alla fine di questo video poi magari se mi bevo anche un sasso d'acqua male non fa passiamo adesso alla categoria degli abiti che come vedrete è molto asciutta molto stringata considerato che la settimana scorsa ho condiviso con voi un video haul con tutti i miei acquisti estivi ho pensato di non ripetermi eccessivamente nel video di oggi anche perché volente o nolente avrei finito per riproporvi praticamente la stessa roba che vi ho fatto vedere la settimana scorsa e così la sezione abiti di oggi si riduce a un unico capo che però vi voglio consigliare non è un nuovo acquisto è un capo che avevo già perché è una figata e parlo di questa t-shirt nera di Uniclo un brand che al momento non è ancora disponibile in Italia ma a breve se non ho capito male a settembre aprirà anche a Milano e spero che quindi si potrà fare anche shopping online sempre che non si possa già fare perché non lo so io di solito compro Uniclo in Francia tanto per cambiare perché ci parli di una t-shirt semplice perché fa parte della loro linea Airism molto leggera Uniclo è un brand giapponese specializzato soprattutto a parte in linee molto pulite molto minimali ma anche in tessuti ricercati tecnologici non so come spiegarlo comunque tessuti particolari in inverno hanno una linea heat tech di nuovo molto leggera ma molto calda in estate hanno la linea Airism molto leggera traspirantissima sembra di non avere niente addosso si suda molto meno ed è una classica t-shirt nera è disponibile anche in altri colori con uno scollo tondo bello un bello scollo tondo di quelli che piacciono a me manichina corta ho pensato che fosse una cosa intelligente consigliarvela peraltro non escludo di averlo già fatto anche l'anno scorso ma ripetita Juvent quindi se siete alla ricerca di capi leggeri traspiranti che non fanno sudare per l'estate vi consiglio di dare un'occhiata al sito di Uniclo io come al solito vi metto il link sul blog e anche per oggi informazione trasmessa passiamo adesso alla penultima alla penultima categoria che diciamo un po' la chiameremo quella degli accessori ci buttiamo dentro un po' la rava e la fava continua la mia fissazione per fasce fiocchi e quant'altro nuovo acquisto su Lindybop ho preso anche questa fascia con l'anima in filo di ferro bianca con il po' nero ma la bellezza e poi ho acquistato una serie di fulorini vari ed eventuali in realtà questo me l'ha passato mia madre ed è vintage non so dirvi di che epoca però direi che abbastanza chiaro dal pattern e anche questi mi piace legarli così e invece alle gallerie Lafayette a Nizza ho preso due di questi fularini uno blu e uno verde che vanno con la maggior parte dei miei vestiti che sono un po' più piccoli e quindi anche più semplici da legare senza fargli fare troppi giri trovo che in estate fularini e affini scusate il gioco di parole siano molto comodi da portare e ultimamente mi sta piacendo anche usare dei fulari molto molto grandi e fare degli accrocchi inserisco foto esplicativa soprattutto in spiaggia comodissimi invece del cappello sto turbantone che mi dà anche quell'aria un po' così di sintomatico mistero e quindi all'interno della categoria accessori primo input fularini 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 secondo input ho perso un pezzo ce la posso fare? forse scarpe queste scarpe le ho prese l'anno scorso da Oiscio non so se lo conoscete è un brand che fa intimo pigiamico costumi roba da palestra robe così avevo acquistato questi serdo birkenstock con come posso dire fioccone annodato ho controllato e sono ancora disponibili anche in altri colori o forse solo in altri colori comodissimi costano un terzo delle birkenstock perfetti da portare al mare perfetti da mettere non per andare in spiaggia necessariamente ma anche proprio da mettere tutti i giorni molto carini col fiocchino ne trovate anche non di Oiscio anche in altri posti io però vi consiglio questi perché li ho provati e posso garantire strigne strigne perché qua siamo sull'orlo dello svenimento vi propongo anche un costume da bagno questo l'ho già messo nei preferiti non nei preferiti nel video haul quindi non ve ne parlerò troppo a lungo ma ho preso un nuovo costume da H&M e mi sta piacendo molto di nuovo tra l'altro va anche abbastanza d'accordo con le scarpe di Oiscio non che uno vada in giro in costume ciabatte cioè in realtà in spiaggia sì ma per la città no comunque date un'occhiata ai costumi di H&M perché se non volete spendere una bordata di soldi anche quest'anno ne hanno di molto carini molto molto carini questo ve l'ho già mostrato nel video haul quindi non vi sto a spiegare troppe cose ha le spalline removibili sorregge abbastanza bene e lo slip è un po' più sgambato adesso mi vanno un po' queste robe anni 80 sgambatissime questa è una via di mezzo molto molto carino e questo conclude anche la categoria degli accessori passiamo adesso all'ultima categoria che conclude questo video la categoria delle serie tv eccoci qua nell'ultima categoria di questo video in un bagno di sudore così lo dico casomai non fosse più che evidente da quello che vedete anche i capelli mi ci stanno sempre più afflosciando serie tv un partito serie tv siamo calmi dunque in realtà questa serie avrei già potuto consigliarvela a giugno se non fosse che quando ho girato il video con i preferiti di giugno non l'avevo ancora finita adesso l'ho fatto e posso dire che forse è una delle serie di tv che mi è piaciuta di più degli ultimi anni di cosa stiamo parlando di Dark una serie tedesca molto molto figa molto molto complicata che parla di viaggi nel tempo raccontare la trama è veramente molto complesso diciamo però che è ambientato nel 2000 allora siamo alla seconda stagione iniziamo così la prima stagione comincia nel 2019 quindi l'anno che stiamo vivendo attualmente e racconta di questa cittadina tedesca Winden con la sua centrale nucleare perché se non c'è il nucleare poi non siamo mai contenti e i protagonisti sono gli abitanti di questa città ognuno con i suoi segreti ognuno con i suoi intrighi ognuno con le sue storie sia i protagonisti sono sia degli adolescenti dei ragazzini ma anche gli adulti quindi ci sono un po' tutte e due le fasce d'età ma anche degli anziani tanto per dirvi quindi un po' non mi viene trasversale non mi veniva la parola dicevo che la serie che tra l'altro trovate su Netflix casomai non l'avessi ancora detto parla di viaggi nel tempo perché a un certo punto in queste grotte che in qualche modo comunicano anche con la centrale nucleare un ragazzino scompare la famola breve e si capisce nel corso della prima stagione che ha fatto un viaggio nel tempo questo ragazzino per cose che si capiranno poi nello sviluppo della trama e da lì la serie mi parte in una in diverse zone temporali c'è il 1920 c'è il 1987 adesso insomma comunque gli anni 80 gli anni 20 il presente e poi alla fine della prima stagione anche il futuro e questi protagonisti poco per volta iniziano a scomparire in una serie che chiaramente finiscono sempre in epoche diverse e non si incrociano mai il padre del ragazzino per cercare il ragazzino scomparso anche lui dopo una serie di ricerche trova queste grotte boom anche lui sparisce ma finisce negli anni 20 poi però c'è tutto un interlacciarsi un intersecarsi di queste trame molto molto complesso da spiegare quindi è una di quelle serie che bisogna seguire con grande attenzione ma che non delude mai non ho mai trovato un punto debole un momento dove dici serve questo non ci stava pur essendo una storia complicatissima intricatissima tutto ci sta tutto ha un senso e devo dirvi che anche la seconda stagione bomba bomba e il finale della seconda stagione di quelli che lascia chiaramente aperta tutto una una pletora di possibilità su una terza stagione che mi aspetto vivamente che ci sia se siete alla ricerca di una serie molto figa molto che tiene così proprio che non riesce a staccare gli occhi dallo schermo io vi consiglio Dark fighissima poi se va a san dire Stranger Things è quello che è successo a luglio perché appunto la terza stagione di Stranger Things è cominciata il 4 di luglio nel momento in cui sto filmando questo video e ve lo dico per onestà lo sto filmando nella prima metà del mese non ho ancora finito di vedere la terza stagione la sto vedendo molto lentamente il che già vi da un po' il polso ora non so se ho visto in tutto 4 puntate per adesso non è che sia rimasta sconvolta Dark mille volte su Stranger Things che peraltro spesso sono messe abbastanza a confronto per quanto in realtà non è che abbiano poi tutte ste robe in comune bene e con questo concludiamo il video dedicato ai miei prodotti preferiti di luglio come sempre io spero che le indicazioni che vi ho dato vi siano state vi siano state in qualche modo utili che abbiate trovato i prodotti interessanti sto per morire ragazzi non so se si capisce ma un bagno di sudore spero che abbiate trovato i prodotti che vi ho mostrato interessanti se qualcosa dovesse sconfifferarvi vi invito a visitare il blog dove trovate la lista di tutti i prodotti con i link e il link al post dedicato nella info box cliccando su mostra altro oppure sulla i qui sopra la mia testa direi che per oggi non c'è altro se questo video vi è piaciuto come al solito vi invito a cliccare mi piace in modo che io possa saperlo iscrivetevi al mio canale adesso è il momento di salutarci perché questo a tutti gli effetti è l'ultimo video della stagione perciò baci cari passate uno splendido agosto noi ci rivediamo tendenzialmente a settembre non so dirvi ancora con precisione quando perciò vi invito ancora una volta a seguirmi su instagram perché nelle stories vi farò sapere quando ritornerò attiva sia su youtube che sul mio blog direi che per oggi non c'è altro un bacio grande e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao